Negli ultimi sette giorni sono stati riscontrati 331 casi di positività al coronavirus nella provincia di Caltanissetta, pazienti tutti posti in isolamento domiciliare. 118 sono i casi nella città di Caltanissetta, 108 a Gela, 28 a San Cataldo, 18 a Mussomeli, 13 a Niscemi, 11 a Santa Caterina Villarmosa, 6 a Vallelunga Pratameno, 5 a Butera, a Mazzarino e a Serra di Falco, 3 a Milena e Montedoro, 2 a Bonpensiere e a Sommatino, 1 ad Acquaviva Platani, a Campofranco, a Riesi e a Sutera. I ricoverati in degenza ordinaria sono in totale 10, di cui 3 a Gela, 2 a Niscemi, a San Cataldo, 1 a Serra di Falco, a Santa Caterina Villarmosa e a Caltanissetta. Dimessi dall'adegenza ordinaria invece 5 pazienti, di cui 3 a Caltanissetta, 1 a Gela e 1 proveniente da fuori provincia, mentre si segnale il decesso di un paziente di Caltanissetta. I guariti infine sono in totale 229, fra questi 87 pazienti nella sola città di Caltanissetta, 54 a Gela e 27 a San Cataldo.